Bilancio positivo per il maggio dei monumenti di quest'anno, costruito su un calendario di eventi diffusi sul territorio napoletano attraverso i luoghi dell'arte e della storia. Intenso e vario il programma che per 33 giorni ha animato i monumenti della città, conseguendo tuttavia una riduzione di spesa del 43% rispetto al 2011. Omaggio ai monumenti, il titolo di questa edizione, che ha consentito di riscoprire capolavori come la chiesa di San Giovanni Maggiore Pignatelli, riaperta a gennaio dopo molti anni di chiusura per restauro, o il magnifico convento basiliano di San Domenico Maggiore che nel 200 accolse Tommaso d'Aquino. Di gran rilievo anche la riapertura del museo civico Filangeri con le sue ricche e preziose collezioni. Tra gli eventi più suggestivi, le letture teatrali nel cimitero delle Fontanelle e nelle catacombe di San Gennaro e il ricordo di Pasolini nella Napoli sotterranea. La musica ha attraversato tutto il maggio, con un buon numero di concerti di classica e di folk e poi con la taranta di Eugenio Bennato al Conservatorio San Pietro a Maiella e le canzoni di Roberto Vecchioni al Teatro San Carlo. E ti chiedendo parole, grosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzi, e la ragione sta sempre troppo forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quello che vedi dentro. Chiudi gli occhi ragazzo e gruppi quello che vedi dentro. Grazie a tutti